Ragazzi non ce la faccio più, tra la fisioterapia che mi porta via due ore e mezzo al giorno l'attesa snervante anche se bellissima di diventare babbo e il fatto che non posso fare sport per il motivo appena citato arrivo a fine serata che sono da buttare via perché sono emotivamente scarico, sono stanco della fisioterapia e non mi posso sfogare come vorrei con lo sport Comunque ragazzi diciamo che la fisioterapia sta avendo dei buoni risultati penso sia ancora lontano il momento in cui potrò correre senza pensieri, senza dolori però ci si sta avvicinando sempre di più a quel giorno Comunque ragazzi, in bando alle ciance, oggi voglio parlarvi di ciclismo di tre prodotti acquistati su Amazon che ogni ciclista dovrebbe avere Dunque ragazzi andiamo a fare un unboxing violento di questo pacco Io lo metto qua, lo apriamo insieme Eccolo qua, che cosa ho comprato? Allora, tutti questi prodotti sono della stessa marca, sono tutti acquistabili su Amazon tant'è che sotto in descrizione troverete il link anche voi se volete fare l'acquisto Ok ragazzi, allora, sono tutti prodotti di marca Elite Abbiamo una borraccia, questo contenitore per attrezzi che va inserito nel porta borraccia viene chiamata anche falsa borraccia ed è molto utile per inserire tutti gli utenzi di tutti gli accessori che un ciclista dovrebbe sempre avere con sé quando si allontana da casa per far fronte ad eventuali imprevisti Infine, l'ultimo degli oggetti acquistati è questo normalissimo porta borraccia Elite fatto di plastica, non è niente di eccezionale però costava veramente poco, quindi è deciso di acquistarlo Quindi ragazzi, ricapitolando, porta borraccia, falsa borraccia e borraccia Elite Veniamo adesso al costo degli oggetti Questa borraccia l'ho pagata 2,95 euro Questo porta borraccia 5,95 euro E il contenitore per gli attrezzi o la falsa borraccia l'ho pagata 4,95 euro Eccoli qua insomma i tre oggetti comprati attraverso il metodo PLUS Sono tre oggetti ovviamente che ognuno di noi avrà in casa se si ha una bicicletta ma la peculiarità di quest'ordine non è tanto nella straordinarietà degli oggetti perché chiunque ha una bicicletta ha una borraccia chiunque ha una bicicletta ha un porta borraccia ha una falsa borraccia però la cosa carina che volevo presentarvi in questo video è ovviamente il poter acquistare questi tre oggetti a un prezzo scontatissimo grazie al sistema PLUS che con un altro acquisto vi permette davvero di avere altri oggetti che fanno parte del circuito PLUS a prezzi stracciatissimi Ok ragazzi, trovate il link se volete dei prodotti PLUS qua sotto in descrizione costano pochissimo, la spesa di spedizione ovviamente è unica un altro oggetto ovviamente ve lo farò vedere più avanti perché lo fa parte di questo kit anche se si parla ancora di bicicletta però insomma è simpatica l'idea che ha dato Amazon a chi vuole acquistare prodotti e davvero spendere molto poco Bene ragazzi, direi che per oggi è tutto adesso vi faccio una bella carrellata di questi tre prodotti noi ci vediamo al prossimo video, non mancate iscrivetevi al canale, ciao!